Proprio in questi giorni ho deciso di presentare un'interredazione in consiglio regionale dove chiedo alla giunta regionale i tempi di riapertura e se c'è l'intenzione di riqualificare la struttura del briciotti di Monbaroccio. Ricordo che il briciotti di Monbaroccio è stata chiusa per i primi di ottobre per problemi di agibilità e in quel momento aveva al suo interno 19 ospiti. In un momento come questo, dove ovviamente i posti letto sono veramente molto importanti, ritengo che riuscire a riaprire la struttura e quindi riattivare i 19 posti letto aiuterebbe sicuramente a decongestionare i ricoveri nelle altre strutture del territorio. Ricordo però che Monbaroccio in realtà ha già accreditato e autorizzato non 19 ma 40 posti letto, quindi 21 posti letto, ormai sono anni che non vengono più attivati. Da questo punto di vista sarebbe importante riuscire a individuare anche le risorse per una ristrutturazione complessiva della struttura, ovviamente sia per qualificarle, quindi garantire la possibilità di ospitare 40 persone e non solo 19, ma ovviamente anche risorse per poter assumere un nuovo personale. In queste ultime settimane abbiamo sempre sentito parlare di una possibilità di assumere un nuovo personale e anche ovviamente si vuole puntare molto sulla sanità del territorio. Io penso che sia giunto il momento di dare una risposta sicuramente concreta al briciotti, quindi alla comunità di Monbaroccio, che devo dire con questa struttura aperta sarebbe importante sia per dare una risposta rispetto ai bisogni di assistenza che ci sono sul territorio, ma anche produrrebbe sicuramente effetti positivi sia per quanto riguarda l'occupazione, ma anche riflessi economici per l'intera comunità.